La Brasilena, niente più problema! Ecco Paolini, il disturbatore! Allora, siamo qui, ci troviamo a Villanova d'Asti, stiamo facendo una griglia di Pazzoletti e non, e mi chiedono, senza che io ne fossi veramente convinto di questa cosa, che la Brasilena, mi dicono che la Brasilena è simile al vino. È simile al vino. Allora io vi posso descrivere le proprietà che accomunano queste due bevande. Sì, le proprietà. Anzi, che ne differiscono, dai a Giuseppe, andiamo di là. Innanzitutto la Brasilena è in bottiglia. La Brasilena è anche in bottiglia, però. Cosa ne possiamo dedurre? Cosa ne possiamo dedurre? Ah, sto facendo... Staccia parla, non fermi! Cosa ne possiamo dedurre dal fatto che la Brasilena sia in bottiglia? Che vuol dire che è una bibita commerciale. Commerciale, sì, è industriale. È venduta che sta ora prendendo piede in Calabria, anche se in alcuni punti della Calabria ancora non è conosciuta. Perché c'è la concorrenza. Andiamo a vedere gli ingredienti. Acqua minerale, zucchero, che c'è anche nel vino. Beh, bevi, bevi. Se chiede che bere. Beve, beve. E io bevo pure. Alla salute. Ringa. Ma ora non è la stessa cosa del vetro. No, non è la stessa cosa del vetro. È buona, ma non è. Spostaggiare? Tu, tu, vai, vai, prego. Ora. Io l'ho portata, dal poco che avevo. Ora io vi... Ora io vi vorrei illustrare... Questo, stai facendo il video? Sì. Questo... A gentile beneficio di Marco. Grazie, grazie. Perfetto. Ora vi vorrei illustrare le proprietà di questo liquido che fin dall'antichità dei tempi viene usato in tutte le grigliate, le mangiate, le pesce, eccetera. La Brasilena è nessun genere. E niente più un problema. Allora, dentro questo colore rossasso che voi vedete, il sangue, il sudore della gente che amora, il sudore del filerio tassone. No, questo qui no, perché questo qui è della boccia. È differente. Sa che nel tito della Brasilena c'è scritto invece di Acqua Minerale Calabria, c'è scritto Inacacqua Minerale Calabria. Sarebbe da correggere, eh. Sarebbe da correggere. Sarebbe da 5 anni che così. Beva, beva, beva. Titerroni. Ha parlato, ha parlato, ha parlato. Brasilena. E niente più un problema. Vino. E niente più petrosino. L'ho visto davanti al santo, l'abbiamo fatto sapronificare. L'hai vista? L'hai vista, l'hai vista. Blasfemia pura. La prossima anno ne rifacciamo una migliore. Ma dovrei mettereci la canzoncina quella delle, delle, dei Chig. Qual è? Come non ti chiami, quella come la canzoncina? Quella lì. Forse quella dei Journey. Don't stop, eh no. Anywhere you want, anywhere you want, that's the way you need. Da, na, na, na. Dovrei mettere quella. Come quella della pulizia di Simone. La rifaccio. La pulizia anonimo. La rifaccio, non c'è problema. Ma non lei, va lei. No!